Proseguono ad Albino i lavori per la pista ciclopedonale della Valle del Luio. Nelle scorse settimane ricordiamo anche la chiusura della strada per permettere la realizzazione del sottopasso. E adesso a che punto siamo? Siamo a buon punto. Tempo, dieci giorni, due settimane, la pista ciclopedonale Valle del Luio sarà completata e sarà fruibile. In brutto tempo le ultime bombe d'acqua certamente non ci hanno aiutato, però abbiamo perso pochi giorni. Ripeto, per il 20-25 luglio la pista dovrebbe essere completata. Sono molto soddisfatto, siamo contenti per il risultato ottenuto. La variante che la mia amministrazione ha portato a questo progetto ha permesso davvero non solo di realizzare un tracciato in estrema sicurezza, cosa che prima non era. Ma ci ha permesso anche di valorizzare un angolo della Valle del Luio, un bosco che prima era intricato, inaccessibile, che adesso invece sarà fruibile, sarà permeabile e godibile da parte non solo degli albinesi ma anche da chi viene da fuori. Un bel tracciato, piace molto. La gente lo vede, non è ancora percorribile, ma si vede. I primi apprezzamenti arrivano. Quando sarà poi percorribile, utilizzabile, sarà ancora meglio. Siamo davvero soddisfatti. Lì a fianco sono iniziate anche i lavori della famosa rotonda, presso l'incrocio tra via Pertini e via Pradella. I lavori stanno proseguendo con una certa celerità. Sicuramente per fine agosto sarà pronta anche questa rotonda che da tanto si attendono, si aspettano gli abitanti della Valle del Luio, ma che sarà comunque anche funzionale e gradita a tanti altri che passano, che frequentano la via Pradella, la via Pertini, perché ripeto si tratta di strade di grande collegamento, utilizzabili non soltanto dagli abitanti di Albino, ma da tanti abitanti della Valle Seriana. Sono tanti, lo ricordiamo, i lavori che avete programmato per questa fine anno. Ce ne sono altri che sono partiti in questi giorni o stanno per partire? Già da un mese si sta lavorando, quasi un mese, si sta lavorando presso le scuole medie di Abbazia. Lì abbiamo in programma un intervento di efficientamento energetico con la rifacitura del cappotto esterno e del tetto. I lavori sono già cominciati da una ventina di giorni e stanno proseguendo. Questa settimana si procederà anche a cantierizzare il Rio Re, il centro sportivo Rio Re, dove si incominceranno i lavori per la realizzazione dei nuovi spogliatoi del parcheggio, del nuovo parcheggio e del campo sintetico A7, nonché la sede dei mezzi della protezione civile.